L'onorevole Francesco Cucuredo ha portato i saluti al convegno questo pomeriggio, l'inaugurazione del convegno, lo ha fatto nella sua veste di assessore al centro storico di Castelsardo, ma ricordiamo che Cucuredo è stato per due mandati, credo, sindaco di Castelsardo e tuttavia è anche un politico regionale, consigliere regionale, per cui possiamo un po' allargarci su tematiche, intanto su tematiche anche precisamente di questo convegno che sono la sanità e su cui lui ha particolare sensibilità anche per chi li segue nelle politiche regionali, ma direi anche verso l'Europa, perché Castelsardo ci risulta essere un esempio virtuoso di utilizzo dei fondi europei. Castelsardo si candidata e fa turismo e lo interpreta anche in maniera innovativa. Perché si può investire sul turismo dei centri costieri come Castelsardo, che peraltro non ha bisogno di per sé si presenta come una località splendida, ma quanto bisogna investire e soprattutto le faccio la domanda rispetto al turismo congressuale e al turismo legato alla scienza e alla cultura. Sì, è una domanda complessa, provo a essere sintetico. Lei dice si può, io dico si deve puntare sul turismo, credo che il modello di sviluppo della regione Sardegna non è più sostenibile, l'attuale modello di sviluppo basato su scelte fatte negli anni 60-70, le scelte industriali, l'industria pesante, le partecipazioni statali che hanno spalmato, più che spalmato, gettato un po' di chimica a Porto Torres, a Ottana, un po' a Porto Vesme. Non ha più senso, col mondo globalizzato è antieconomico produrre beni massificati che possono essere prodotti molto più convenientemente da altre parti. L'agricoltura è in crisi, è la disperazione, si vive molto di pensioni, 7 miliardi di euro all'anno l'Inps ripartisce tra i Sardi e io credo che quindi l'unico modello di sviluppo sostenibile debba essere incentrato sul turismo, sulle tante forme di turismo, perché oggi la Sardegna non è una regione turistica, solo l'8% del PIL della Sardegna è dovuto al turismo, contro l'11,5% nazionale, quindi siamo una delle regioni meno turistiche d'Italia, molto la di sotto della media. Fate queste premesse, io sono assolutamente convinto che dovremmo puntare con forza su un modello di sviluppo incentrato sul turismo, che chiaramente reattivi poi anche le filiere dell'agroalimentare, dell'artigianato, soprattutto di quello artistico e non penso soltanto ai borghi e antichi, che sicuramente come Castel Sardo hanno più facilità a svolgere questa attività, ma penso che tutta la Sardegna abbia peculiarità per poter portare avanti questo modello. Detto questo, le dico che assolutamente per far turismo bisogna pianificarlo, bisogna ragionarci su, altrimenti io faccio parte la Commissione Sanità della Regione, come lei accennava, in questi giorni si parla di tagliare i servizi perché la Regione non è più in grado di sostenerli, dovranno tagliare un 25-30% di posti letto o nella rete ospedaliera perché il PIL prodotto in Sardegna in questo momento, e quindi i nove decimi dell'IVA, i sette decimi dell'IRFA prodotti dai sardi, non ci bastano più per sostenere tanti servizi. Lei sta parlando adesso di sanità, introdotto il tema, la crisi colpisce tutto, però rischia di penalizzare i servizi sanitari e questo è naturalmente un aspetto, una parte molto sensibile anche rispetto al benessere della popolazione, come siamo messi? Certo, io legavo i due discorsi, nel senso che se noi non dovessimo riuscire a portare avanti per la Sardegna, per il futuro della Sardegna, un modello di sviluppo sostenibile che garantisca un sviluppo, garantisca incremento del PIL, garantisca redditi, non di tipo assistenziale, dovremmo rinunciare a molti servizi, a partire da quelli sanitari che impegnano oltre la metà del bilancio regionale, oltre 3 miliardi di euro, la Sardegna non è più in grado di sostenerli. Mi rendo conto che è molto difficile realizzare tagli in un settore così sensibile, ma immagini che la stessa cosa la faremo sempre nell'ambito della sanità per quanto riguarda la contrazione della spesa farmaceutica. Abbiamo alcune tipologie di farmaci, per esempio i farmaci oncologici che hanno dei costi elevatissimi ed un ritorno in termini di incremento, di allungamento della vita di qualche giorno a fronte di costi onerosissimi e quindi si pongono evidentemente dei problemi anche di natura morale. Vale la pena prolungare la vita, forse è meglio dire l'agonia dei malati di qualche giorno a fronte di costi anche di 30 mila euro al giorno per dei farmaci? È un problema che ahimè a natura economica vanno fatte le scelte politiche ma ha delle implicazioni etiche evidentemente molto molto forte. È evidente che la situazione attuale di crisi richiede delle politiche, come diceva lei, diverse per uscirne e quindi avere ipotesi di sviluppo diverse per la Sardegna. Questo però implica sicuramente anche un cambio culturale e un problema anche di classe dirigente. Da questo punto di vista, so che questo è un'altra bel domandone, abbiamo la consapevolezza di questo complessivamente in Sardegna. Io credo che nei momenti di crisi le energie migliori devono venire fuori, quando si tocca il fondo ci vuole il colpo di reni per risalire. Io credo che questo sia il momento più opportuno perché una nuova classe dirigente si afferma. Quando parlo di classe dirigente non parlo solo di classe dirigente politica ma penso a una nuova classe dirigente sindacale che sia assolutamente adeguata alle nuove sfide, una nuova classe dirigente imprenditoriale, una nuova classe dirigente burocratica che pensi a dare strumenti adeguati per pensare al futuro in termini positivi. Io credo che ci sia la necessità di cambiare, serve una rivoluzione culturale. Mi viene da pensare a ciò che diceva De Gasperi 50 anni fa, diceva che i politici, ma lo si può estendere a tutte le categorie, pensano normalmente al loro mandato e quindi ad avere risultati e effetti nell'arco dei cinque anni. Gli statisti pensano alle future generazioni. Io credo che sia il momento per cui tutti coloro che hanno volontà, passione, voglia, idee, capacità innovativa, le tirino fuori ora. Io ritengo, mi batterò sempre per sostenere un cambiamento radicale del modello di sviluppo. Non credo che sia utile mantenere aperte miniere che producono passività, imprese che decotte o continuare ad assistere l'agricoltura che non produce. Credo che le scelte coraggiose debbano essere fatte e la Sardegna, come tutte le altre isole del mondo, soprattutto isole che hanno bellezze come la nostra, non possono che puntare sul turismo. Credo che se riusciremo attivare l'economia, anche la sanità ne avrà beneficio, avremo più risorse da spendere per i più bisognosi, per gli anziani, per i sofferenti e credo che opportunità di riflessione anche nelle relazioni iniziali, sentivo parlare sempre della relazione tra economia e salute, credo che potrebbe esserci un rapporto virtuoso tra economia e salute solo se riprendiamo a produrre, riprendiamo a credere nel nostro futuro, riprendiamo un processo di sviluppo per la Sardegna. Potremmo chiudere qui a non erro perché i temi sono toccati quasi tutti, seppur qualcuno, velocemente, però io una domanda gliela voglio fare. In Sardegna in questo momento c'è necessità di avere più fiducia in noi stessi, nelle nostre tradizioni, nella nostra identità, tuttavia dobbiamo guardare all'Europa. Casa del Sardo è un esempio virtuoso di utilizzo delle opportunità europee, però non le chiedo solo i pareri di Casa del Sardo, ma evidentemente quale è il rapporto? L'Europa è un'opportunità anche nella situazione attuale di crisi dell'Europa, come la vede lei? Io non posso che vederla positivamente, nel senso che moltissimi degli investimenti realizzati a Casa del Sardo, ben oltre 100 milioni di Euro di risorse in opere pubbliche, in restauri, in recuperi, le abbiamo realizzate essenzialmente con fondi comunitari, quindi per me è stata una grande opportunità quando ho svolto il compito di sindaco di Casa del Sardo. L'Europa è anche un freno, l'Europa impone anche delle regole, poche regole, ma molto rigide, impone dei termini non derogabili e noi italiani, i sardi, come il resto degli italiani e dei meridionali forse ancora di più, tendiamo invece a cercare la scorciatoia, ottenere la deroga, ottenere la proroga, ecco con l'Europa le regole sono rigide, questo sistema impone sacrifici se ci vogliamo star dentro, però dà anche delle grandi opportunità. Le opportunità le dà soprattutto quando si costruiscono retti, quando si fanno valere degli interessi diffusi. Io credo che la Sardegna, così come ha fatto la mia città, Castel Sardo ha costituito numerosi retti, 25, dalla rete dei porti alle città regge, alle cattedrali di Sardegna, alle città storiche del Mediterraneo, insieme a Betlemme, facciamo parte dai borghi più belli d'Italia, alle bandiere blu, a tantissime retti. Io credo che la Sardegna doveva fare una associazione di interessi comuni, per esempio tra le regioni marginali d'Europa, per esempio tra le regioni insulari d'Europa, porsi a capo di queste retti, far valere queste esigenze particolari delle regioni europee, ma non penso solo a quelle del Mediterraneo, quelli possono essere Malta, Cipro, Baleari, Corsica, che pure potremmo coordinare Sicilia stessa, ma penso a tutte le isole d'Europa e credo che così potremmo affermare una rete che possa far valere il suo peso, sia dal punto di vista politico che anche dal punto di vista finanziario. Grazie Onorevole, cogliamo soprattutto gli aspetti di prospettiva e di ottimismo pur nella consapevolezza della crisi attuale. Grazie a voi.